Ed ora un'anticipazione di TG2 dossier in onda questa sera, vediamo. 45 miliardi di fatturato ogni anno è il giro d'affari dell'Andrangheta in Germania. Denaro riciclato per buona parte nell'economia legale, alberghi, ristoranti, imprese. Così gli esponenti della mafia calabrese investono e ripuliscono il denaro sporco. Mille affiliati delle cosche operano in territorio tedesco e sfuggono alle indagini dei nostri inquirenti anche grazie alle leggi che in quel paese non prevedono l'associazione mafiosa. Drangheta Uberalles, TG2 dossier, questa sera 23.30, Rai 2. È tutto, il TG2 torna domattina, domani alle 13. Grazie per essere stati con noi, buona serata.